Carissimi amici, è arrivato PaninoTube e oggi torniamo nella serie di The Test Wars Oggi torniamo qua a scoprire nuovi segreti, nuovi misteri Oggi torniamo a parlare del mistero degli alieni che ci sono all'interno del gioco Ebbene sì, come abbiamo visto nelle versioni test, avevano aggiunto due alieni Poi però è uscito l'aggiornamento ufficiale sul Play Store e hanno tolto gli alieni E dove saranno finiti? Che fine avranno fatto? Verranno poi rimessi all'interno del gioco? Oppure erano stati messi così a caso solo per un test? Proviamo a scoprirlo insieme in questo video, ma come sempre siete qui sotto tantissimi like Se like che lascerete sarà pari, il personaggio associato voi sarà Chad Se invece il like sarà disparo, il personaggio associato voi sarà l'aliero Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale personaggio siete associati E se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina Anche perché qua su questo canale faccio video tutti i giorni alle 18.20 Ma adesso direi di partire, cominciamo subito, facciamo single player E facciamo qua una bella partita E nel frattempo iniziamo qua anche a cercare di scoprire Che fine hanno fatto gli alieni all'interno di questo gioco? Dove sono finiti? Proviamo a scoprirlo insieme Sempre se qua si sbrega a caricare Ed eccoci qua, siamo tornati nella Dude City Voilà, buonasera, buonasera a tutti Come state, come state? Spero tutto bene, spero, spero tutto bene Prendi qua la motocicletta Iniziamo ad andare nei posti dove tecnicamente sarebbero dovuti esserci gli alieni No? Perché come ben sappiamo avevano giunto degli alieni all'interno di questo gioco Ma che fine avranno fatto? Dove saranno questi alieni? Allora, su, sta moto però Va veloce, ma è incontrollabile a fare le curve È incontrollabile Allora, il primo alieno si trovava da queste parti L'alieno gigante Dove c'è qua la torre dell'orologio Ma sono spariti questi alieni, sono spariti Allora, ce la faccio qua girare Cioè, ma dai, ma mi sono allontanato di 300.000 chilometri Vai di qua, vai di qua Velocemente, di corsa, di corsa, di corsa Ok, girati personaggio Ho detto girati personaggio Vai di qua Vai di qua Perfetto, perfetto, perfetto Adesso dobbiamo andare di là dove c'è la torre dell'orologio Ce la farà panino ad arrivare Oh, ce la stiamo facendo Ce la stiamo facendo Fermati qua, ferm Fermati personaggio Su Allora Come abbiamo ben visto nelle versioni test E qua all'interno della torre dell'orologio Si nascondeva un alieno Un alieno gigante L'abbiamo pure raccolto L'abbiamo portato via All'interno dell'area 51 E se vi siete persi i video Mi raccomando Andatevele a recuperare Perché sono stati veramente molto belli Molto divertenti Qui si trovava all'interno della torre Un alieno gigante Che poi con l'ultimo aggiornamento Con la versione ufficiale sul Play Store È stato rimosso Non sappiamo il motivo Non sappiamo perché Tra l'altro Questo alieno qua Vabbè Forse da un lato ho capito Perché è stato tolto Perché nella versione originale Se avessero lasciato Un alieno gigante In mezzo qua Alla strada Non avrebbe avuto molto senso Cioè che motivo Avrebbe avuto La gente scaricava sto gioco Si trovava un alieno gigante In mezzo alla strada Diceva E che è sta cosa Che cosa ci fa Soprattutto magari Chi non conosce ancora Il gioco di Duteft Wars Chi è magari Da poco Che sta giocando qua A Duteft Wars Se si fosse trovato Un alieno gigante Si sarebbe fatto due domande Diceva Ma perché c'è sta cosa qua Invece per noi Che giochiamo a Duteft Wars Già da tanto tempo Sappiamo il motivo Ed infatti Purtroppo è stato tolto È stato tolto Però comunque Rimane sempre in mistero Qua dentro questo albergo Non sappiamo il perché Hanno lasciato L'antenna Per parlare con gli alieni Quindi diri Di entrare subito Dentro l'albergo Sempre se Dov'è la mia moto Eccola qua Pensavo di averla persa Pensavo che se ne fosse Scappata via Invece no Questa moto è fedele Rimane sempre con me È sempre fedele La moto fedele abbiamo trovato Adesso vedi qua No 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 Non è più fedele Non è più fedele Ma ce la fai ad entrare di qua Ce la fai Ok perfetto Adesso fermati Scendiamo qua Ok Ed eccoci qua Siamo entrati dentro L'albergo Da notare che qua C'è pure la scritta Welcome Benvenuto Che poi in realtà Sta scritta Sarebbe dovuto essere Da questo lato Perché uno che entra Dentro l'albergo Viene di qua E welcome Dovrebbe leggerlo Da questo lato Non da qua Cioè qua uno Se ne va via Dovrebbe dovuto scrivere Arrivederci Altro che benvenuto Vabbè Una volta che siamo Entrati qua dentro Possiamo notare Degli elementi Molto importanti Ad esempio Queste antenne Qui sopra Cosa ci faranno mai Queste antenne Nell'interno di un albergo Ma poi anche questa L'antenna gigante Per comunicare Con lo spazio Più altri aggeggi Questo non so Proprio a che cosa Possa servire Si trova di qua Ma comunque Possiamo notare appunto Che qui dentro Dentro questo albergo È nascosto qualcosa Tipo una sorta di laboratorio Per comunicare Con lo spazio Con gli alieni Ma perché c'è questa cosa Cioè Quindi alla fine Questo non è un albergo È un finto albergo È praticamente un Coperchio Una Una maschera Ecco Chiamiamola maschera Per nascondere Quello che c'è realmente Le maschere infatti Lo sappiamo bene Cosa sono Le mettiamo in faccia Per nascondere Magari la nostra faccia E mascherarci Da altri personaggi Che magari Noi non siamo realmente E la stessa cosa L'hanno fatta qua Hanno utilizzato Un albergo Per mascherare Un laboratorio segreto Guardate qua Tutto in questo modo E le stesse antenne Sappiamo bene Dove si trovano Si trovano all'interno Dell'area 51 E molto presto Ci andiamo Molto presto Ci andiamo Ma prima Andiamo a fare un salto Verso la montagna Perché anche la montagna Come abbiamo visto Nei video scorsi Che nascondeva un alieno Andiamo di qua Veloci 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 Di corsa Di corsa Di corsa Alieni che comunque Sono spariti Che fino avranno fatto Dove saranno All'interno del gioco Ma soprattutto Sai che roba Che roba Siamo proprio dentro Siamo proprio dentro la montagna E qui dentro Hanno praticamente inserito Questa zona qua Con delle rovine Rovine aliene Ecco qua i freni Funzionano bene C'è freno Scendo subito Non come nelle macchine E qui dove si trova Questo palo Si trovava Il piccolo alieno L'alieno piccolo Che fine avrà fatto L'alieno piccolo Dove l'avranno portato Che fine sarà Dove sarà finito realmente Allora Io ho già fatto due teorie Non so dove potrebbero Trovarsi questi alieni Nei prossimi aggiornamenti La prima teoria Racconta Appunto di queste rovine qua In un prossimo aggiornamento Magari queste rovine Saranno poi fatte meglio No? Avranno tipo una sorta Di caverna sotterranea Dove ci saranno Tutte queste cose qua E qui dentro Potremmo trovare Gli alieni O forse soltanto Il piccolo degli alieni Da notare qua Che ci sono pure Gli amichetti scheletrici Ma che è sta roba Ho visto una roba Ah un elicottero Si è schiantato Contro la montagna Cioè ma rendiamoci conto Gli elicotteri Che si schiantano Contro la montagna Vabbè Sentite Dopo il video di ieri Dopo il gioco Che abbiamo visto ieri Quello su Soccer simulator E roba del genere No Soccer player simulator Cioè ormai Io non mi stranisco Più di nulla Cioè qualunque cosa Che vedo ormai Lo accetto per quello che è Lo accetto per quello che è Vabbè dai Continuiamo Continuiamo Comunque Per voi che siete arrivati qua A questo momento del video Volevo darvi pure un annuncio Vorrei iniziare a fare un po' di modifiche Nei due canali Sia quello principale Sia questo qua secondario Cioè nel senso Vorrei condividere un po' più di me stesso All'interno del video Non fare soltanto video gameplay Ma proprio Fare qualcosa Non so Parlare di Vlog Avventure Varie cose Sia sul canale principale Sia su questo secondo canale Diciamo che Vorrei Niente Sperimentare nuovi format Per non stare sempre a giocare Perché immagino che uno Vedersi sempre lì La stessa persona che gioca Dopo un po' si stuferebbe No? E da un lato lo capirei pure Lo capirei Vorrei provare a fare qualcosa di diverso Per divertirci insieme Non soltanto con i giochi Ma anche facendo varie cose No? Varie avventure Beh sul canale principale Potremmo fare delle avventure horror No? Dei vlog horror Qui invece qualcosa di differente Magari degli esperimenti Insomma Piccola parentesi Su ciò che vorrei fare In futuro sui due canali Ma sono comunque Dei progetti a lungo termine Che verranno poi Nei prossimi Non so Mesi Settimane Non subito Non subito Comunque Torniamo qua all'interno di Due Test Wars Piccola parentesi conclusa Ed ecco qua Siamo qua All'interno delle rovine Con gli amichetti scheletrici E c'è anche la seconda teoria Di dove potrebbero trovarsi Tutti quanti Questi alieni Dove potremmo trovarli Andiamo di qua Di corsa Di corsa Di corsa Usciamo fuori dalla montagna Ma direi di andare direttamente Sapete dove? Ok Siamo usciti fuori A recuperare la moto Che ho lasciato Di là Dove è già che si trova la moto? Mi sono perso Aspettate Mi conviene mettere la mappa Se no qua veramente finisco Non so dove Ok L'ho lasciata di qua La moto Su Metti qua Metti qua Gira di qua Tagliamo la strada In questo modo Corri personaggio Corri moto Sì Motocicletta Non è una moto Un go kart Corri go kart Andiamo di qua Piglia il checkpoint Veloce 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 Gira di qua Ma come Allora vai di qua Gira Scendi dal go kart Intanto se ne va via il go kart Noi prendiamo la moto Che se ne stava andando via da sola No Appena mi ha visto Ha detto no no Io me ne vado via Prima che mi prendano E invece no Ti ho preso moto Ti ho preso E adesso andiamo dritti Verso l'area 51 Nessuno In realtà non è che andiamo proprio dentro Sì no Andiamo sempre su quell'isola No Non andiamo dentro la zona militare Perché non ci serve in questo momento Andiamo di qua Corriamo 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 Guardate lì l'antenna Cosa Ma mi è comparso così da nulla L'albergo In realtà Ora a pensarci bene Un alieno c'è ancora all'interno di questo gioco L'UFO Quel coso volante Che noi vediamo in giro Vicino alla fattoria Degli zombie E sempre lì C'è sempre da capire Se gli zombie sono collegati con gli alieni Oppure no Forse gli zombie sono degli sperimenti Fatti dagli alieni Forse questi alieni Rapiscono le persone Per poi zombificarle Ma perché sta moto mi sta andando storta? Ma perché mi va storta la moto? Guardate Ma si gira da sola Si incurva verso sinistra Mi sa che sta moto Devo mandarla A stendere Su Via moto Vado a prendere una macchina Tanto ormai va storta Va troppo storta quella moto È inutile Sarebbe stato impossibile da guidare Ma perché ogni volta che devo andare Verso l'area 51 Ho sempre problemi con i mezzi Perché? Allora Sale qui sopra Velocemente Adesso vai di qua Usciamo subito fuori Veloci 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 Ok bravo personaggio Non metterti a sgommare Se no qua veramente ci arriviamo all'anno prossimo All'area 51 Via di corsa Verso l'altra isola Perfetto Perfetto Vai Togliamoci di mezzo Tutti quanti quelli davanti Ok Siamo arrivati alla zona industriale Ma noi dobbiamo andare da un'altra parte Sì vabbè Vabbè Sgommata tattica fatta male proprio Fatta malissimo Su muoviti Gira di qua Gira di qua Andiamo da questo lato Prendiamo il ponticino Che sta di qua Uh Stranamente sono riuscito a prenderlo Sto ponte No perché ogni volta che cerco di prenderlo Vado sempre fuori strada E cado in mare Vabbè Lasciamo perdere Lasciamo perdere Di corsa Ed ecco qua L'area 51 Il posto più segreto C'è proprio un cartello Con la faccia di un alieno Raffigurato Che ci attende Che ci da Il benvenuto E il benvenuto Mi ha dato pure la capriola Con la macchina Adesso girati qua Girati qua Girati Allora Su Ed ecco qua Possiamo notare qua I vari riferimenti Dell'albergo Che abbiamo visto prima Ad esempio L'antenna gigante Lì c'è anche quel palo In quel modo Con quelle due cose Così che ancora Non ho capito che cosa siano E poi dovrebbero trovarsi Qui in giro Anche Quelle altre Diciamo Sorte di piccole antenne Che però adesso Non vedo Non trovo Ma comunque Le abbiamo già viste in passato Negli altri video E qui dentro infatti Forse probabilmente Nel prossimo aggiornamento Noi potremo trovare Gli alieni Direttamente qua Forse dobbiamo salvarli Forse vengono imprigionati E forse saranno collegate Anche con le missioni Con Chad Come ben sappiamo Qua su quest'isola Sono atterrati Ben due UFO L'UFO gigante E l'UFO piccolo Gli alieni che sono stati aggiunti Nelle versioni test Era un alieno gigante E un alieno piccolo Le due cose sono collegate Molto probabilmente Uno forse era Il disco volante Dell'alieno gigante Mentre l'altro Era il disco volante Dell'alieno piccolo E chissà se Tutto quanto Poi sarà anche collegato Con quella sorta di fagiolo Che c'era Nelle versioni test Che è stato rimosso Chissà Quindi che dire Per il momento Io direi Che possiamo fermarci qua Con il video Ovviamente indagherò Ancora di più Il panino detective Sarà sempre pronto qua A darvi nuovi misteri Il video finisce qua Spero che questo video Ti sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Che dividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video Come sempre vi auguro Buon giornata Buon giornata Buon giornata Buon giornata Ciao a tutti E buon panino a tutti Buon giornata Buon giornata Buon giornata